Siamo davanti alla centrale Taccani che in questi ultimi anni ospita numerosi eventi e soprattutto mostre d'arte. Questa centrale come vedete è un esempio di archeologia industriale che è già in attività dal 1906, costruita dall'architetto Gaetano Moretti e realizzata in Ceppo dell'Adda. L'Enel, come dicevo prima, è partner di molte attività culturali del territorio e sarà anche nostra partner per la mostra che si terrà a ottobre legata alla collezione di opere d'arte che i figli Josh e Anna De Micheli hanno donato alla comunità trezzese e che l'associazione arte e attrezzo ha incomodato d'uso.